Un ragazzo di San Ginese, Giovanni Fazio, di 18 anni, è morto mante di notte in un incidente verificatosi sulla via di Tiglio a Piave San Paolo. Feriti in moto grave anche gli altri tre passeggeri dell'auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco dopo la mezzanotte, la Citroen Xara, sulla quale stavano viaggiando i giovani, è sbandata andando a sbattere contro lo spigolo di un'abitazione. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Per il 18enne non c'è stato niente da fare. In gravi condizioni gli altri tre giovani, uno sempre di San Ginese, gli altri due di Colle di Compito. Sul posto, allertati da alcuni testimoni del tragico scontro, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dall'abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere dal tremendo impatto. Secondo alcune testimonianze, la Citroen Xara stava proveniendo da Lucca, quando all'altezza dell'alimentare di via di Tiglio, il conducente ha perso il controllo, andandosi a schiantare prima contro lo spigolo di un'abitazione e poi contro la facciata di un'altra casa dalla parte opposta della strada. I medici del 118, intervenuti sul posto, hanno trasportato i tre feriti in condizioni grave all'ospedale San Luca, mentre Giovanni Fazio, il 18enne che sedeva accanto al conducente, è deceduto sul colpo. Il ragazzo era originario di San Leonardo in Treponzio e frequentava l'Istituto Giorgi di Lucca.